Steph, cosa stai facendo oggi? Fere, fai silenzio, sto cercando di copiare Steph, si vede lontano un miglio che i due post-it attaccati negli occhiali Sono perfettamente mimetizzati e nessuno se ne accorge, Fere No, si vede, si vede e non vedi neanche tu cosa stai combinando E allora perché il professore ancora non mi ha sgridato? Perché non c'è nessun professore qui, togliti qui così Hai ragione, hai ragione, in effetti non c'è nessun professore E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki E io sono Steph e che se ci chiama Tom l'imbroglione E oggi siamo qui per tornare a scuola e aiutare il nostro piccolo amico Tom a copiare il più possibile Non è bello da dire ma dobbiamo copiare tutto Come possiamo giocare in un gioco che si chiama Tom l'imbroglione? Eh, perché è bello, perché è bello e noi lo aiuteremo, mi sembra giusto Allora, secondo me alcuni consolini si ricordano ancora i Good School 101 L'avevamo fatto, mi sa, a settembre Ed era un gioco dove appunto dovevamo copiare a scuola Cercare di aiutare tutti gli alunni a copiare Questo gioco è simile, però questa volta dobbiamo pensare solo a Tom Cercare di farli prendere i voti migliori possibili E di evitare la rabbia dei professori Che saranno sempre diversi e con abilità sempre più strane Come vedete questo qua sta fluttuando, io non so perché flutua Fere, perché flutua? Sta meditando, sta meditando perché deve sopportare gli alunni Quindi sei medito flutuo? Sì, sì, prova, dovresti provare Non funziona Allora facciamo quello per cui siamo qui Decisamente Allora dice che tenendo premuto così copiamo Ogni volta che completa quel cerchietto prendiamo un voto in alto Perfetto, mi sembra facile, facile, facile E guarda qua, abbiamo già preso una più Semplice, 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 pulito e liscio Non penso che sia tutto così, il gioco è solo l'inizio Prendi almeno B, la barra la vedo già parecchio più grande Quindi sarà già abbastanza più difficile Però c'è un potere che dovrebbe essere l'invisibilità Quindi se ne aspettiamo che finisca il raggio del professore Che è aumentato Che è aumentato Oh, ho sbagliato E copiamo così Teoricamente in questo momento Ok, ottimo, vai Siamo invisibili Cambia, cambia, cambia Non posso più copiare da lei Direi che da lui viene abbastanza comodo Perfetto Ok, però ti conveniva a prendere l'invisibilità secondo me Aspetta Per andare sul sicuro E facciamo così E facciamo così Tanto adesso fa il raggio, non ci vede e vinciamo È cambiato il professore Ed è un Frankenstein Ed è un Frankenstein Mi sembra normale come cosa Colte da tutti i giorni, insomma Noi premiamo qua E ma balla Ma questa è la tua compagna di classe Esatto Dovresti fare tu questo Ah, ma dovrei copiarne mentre Io stavo ballando insieme a lei Altrimenti non ha senso il tuo balletto Veloce Veloce Si sta arrabbiando questo tizio Aspetta Mettila Ok, tutto a posto Al massimo si arrabbia colui che era arrabbiato Giusto? Non è colpa nostra Ero convinta che ci avesse visto Anche io Anche io Infatti ho avuto una paura Allora, andiamo qua No, 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 no Scusi, professore Scusi, scusi Siamo sempre stati al nostro posto Giusto, Ferre? Sì Allora, distrae Non ci siamo mai mossi Ok, no, andiamo qua Allora, occhio che l'invisibilità sotto Ma ma sta sparendo Eh, ma ce l'ho fatta Avevo finito Ok, bravo Non mi serve l'invisibilità E oltretutto anche il balletto Della nostra amica si può usare Tipo tre volte, vero? Sì Perché lo vedevo utilizzare per altre due Non ho capito se tre volte a round O tre volte in totale Possiamo scegliere il nostro personaggio Possiamo cambiare Vuoi essere una femminuccia? Sì, dai, almeno un round anche con lei Una Tomina diventiamo Eh, non so come si chiama lei Perché lui sappiamo che si chiama Tom Però lei non lo so, ma vabbè Non lo so neanche io Però ti volevo fare vedere Che se noi torniamo indietro da quella mappa Possiamo cambiare la lezione Uh, davvero? E guarda questo professore con i binoccoli Vuoi provare? Sì Ok A A Ok Ok Prendi almeno B Abbiamo un tizio per distrarre Abbiamo Tom che distrae, hai visto? Sì, però lo squalo Ok È un bel raggio, è un bel raggio Non male E va anche più lento Quindi iniziamo a copiare da questa qui Che è abbastanza vicina Non ci permette più di copiare Ci spostiamo da lui Eh, attenzione No, perché è così lento quel tizio? È lentissimo Ecco forse a cosa ci servono poi gli occhiali Per copiare più velocemente Ok Per ora copio dalle due tizie Che sono veloci, normali I due tipini lì Sono invece lentissimi Però io posso alternare loro due Teoricamente No, 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 no Non rischiamo Non rischiamo Per arrivare almeno alla B, giusto? Esatto Esatto, esatto Esatto Io faccio così Lo distraggo con un ballo Eh, Tom Eh, te l'ho detto Te l'ho detto inizio e livello Ti ho detto Adesso abbiamo Tom a distrarre il professore Che balla Grande, Tom Balla, balla, balla Continua a ballare Continua a ballare Lo stai facendo arrabbiare? No, Ferre Come faccio? Ma perché? Dovevi andartene? No, perché il raggio era proprio da noi Quindi non potevo andare via 20 secondi Dobbiamo fare solo una volta Andiamo da lei E concludiamo livello A più Bravissimi Ce l'abbiamo fatta Finalmente Tami, Tami Adesso sappiamo il nome anche di lei Cioè da Tom a Tami Super Tom Ok, quindi ti muovi più Il doppio più veloce E copi il doppio più veloce Esatto, esatto Ok, sicuramente lo potremo attivare poche volte Però lo possiamo sfruttare E come Allora È la voglia Sì, sì Vediamo chi è il professore Di nuovo Frankenstein Perfetto No, basta Non ci devi chiedere Queste cose Allora È da prendere come potere È come quello dell'invisibilità Sì, ho notato Ho notato Ho notato Aspettiamo che guardi Uh, che lento che è adesso Ok Però è un raggio bello grosso Sì Allora Andiamo da lei Facciamo Uno Due E io voglio il potere Però No, non scadere Non scadere Non scadere Non ce la fai Devi aspettare che riapaglia Ok, ok Devi aspettare Ah, hai visto che gli oggetti Mi obbligano a fare un giro più lungo? Eh, sì L'ho già notato L'ho già notato L'ho già notato Ok, io non mi ero racconto di questa cosa Ok, c'è di nuovo il Super Tom E vado adesso Vado adesso Vediamo Ok, velocissima Velocissima Vai, vai, vai Continua, continua Continua, continua Continua, continua Continua, continua Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che rischio Che faticaccia Adesso andiamo da lei Ok, uno Così, vediamo com'è Vediamo com'è Veloce Veloce E non si arrabbia No, si arrabbia Ok Quindi vattene Ok, l'ho fatta arrabbiare tantissimo Mamma mia Se sei arrabbiata Ok Tata E siamo già a B Hanno un limite Hanno un limite totale A differenza di ad esempio lei che si ricarica E non solo se arrabbiano pure Quindi non è per niente semplice No, assolutamente no Allora, mi sa che ci dobbiamo accontentare per la prima volta di un A Eh sì, eh sì Per la prima volta Però va bene, va bene, va bene Per la prima volta ci siamo dovuti accontentare della A invece che della più Inizia a farsi difficile Possiamo cambiare anche i vestiti Da vampiro Guarda Allora Stacco Praticamente Seconds tu super taffi Cosa vuol dire? Non lo so Probabilmente qualche special C'è il pirata Poi hai visto? Perché non posso andare No, non posso andare dal pirata Perché non l'hai sbloccato Ma sono tutti i vestiti C'è anche lui da Conte Dracula Lo vedi? Questo parte subito arrabbiato Eh mamma mia Ma quanto sei nervosetto qui Mamma mia Mi è piaciuto il nervosetto Eh cavolo c'è Copi due secondi Già sta arrabbia Beh, anche io mi arrabbierei Se qualcuno copiasse da me Uh che rischio Siamo una classe unita Ci dobbiamo aiutare Ma è pericolosissima sta storia Fere Contro il professore Ho paura Però è velocissima con questo costume Hai visto? Va davvero veloce Sì è velocissima È velocissima Allora dobbiamo puntare a quel poveretto Che sta lì in basso a sinistra Solo soletto Esatto Esatto Quindi appena finisce il professore Uh Andiamo 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 Mamma mia che lento che sei però Mamma mia Sei proprio lentissimo No ti devi muovere Ce la faccio? No ti devi muovere Corri 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 Oh mamma mia che rischio Se non rischiavo non ce la facciamo a fare Niente da Eh lo so Lo so Allora uno Due Qua super tom Via Ok Ok Tre secondi Tre secondi velocissimo Abbiamo fatto l'A almeno Oh Che ansia Che ansia Feremo Siamo pazzi Mamma mia Mamma mia Siamo passati da fare sempre a più A fare il primo A A fare a malapena un A Perché Sta diventando sempre più A malapena ce l'abbiamo fatta Mamma mia Mamma mia Uff Che stanchezza vai Dovremmo avere gli occhialini Sì 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 Allora Neutralize Hunger Ah praticamente Temporaneamente ti fa calmare la rabbia Quindi degli studenti Li fai calmare Ok Ok Allora si può sfruttare su quelli molto suscettibili Sì esatto E infatti sono tutti suscettibili se guardi Allora Ok Via Ok Ok Via Stappa aiuto Che rischio Mamma mia Ok adesso andiamo da lui Che a lui piace Dei anche veloce Guarda A lui piace che gli studenti copia Eh No 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 troppo rischioso Sì assolutamente Assolutamente Ok 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 Almeno la dovremmo riuscire a farla Ma guarda che ormai fare più di A Secondo me è impossibile Guarda Giusto giusto Mancano tre secondi Guarda 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 Giusto giusto di nuovo Sì 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 Diventa sempre più complicato Però va bene dai Finché rimaniamo nella A Secondo me è un buon risultato E va benissimo Io sarei felice anche di una B Sinceramente Ah sì 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 Figuriamoci la A Andiamo da lui Dato che il professore è appena controllato Possiamo sfruttare lui come si deve Uno Due Andiamo anche al terzo Torniamo a casa Gli occhiali lì sarebbero bellissimi Gli occhiali cavolo Ce la faccio ce la faccio Ok Eh però lui è lento E meglio andare da lui Uno Due Vado via Vado via Vado via Ok 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 Ci siamo ci siamo Non sta andando male Non sta andando male Facciamolo arrabbiare Il problema è che siamo soltanto a B E non possiamo più copiare da lui Mamma mia Dannazione No 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 Dovevi prendere l'invisibilità Piuttosto che andare lì Eh beh facile capisci No sì era utile prenderla E rimanevi a copiare Aspetta B No Dai ma vabbè No Ma dai stai fermo Allora dai Veloce professore Ok possiamo andare da lui Uno E siamo a B Due E siamo a metà B Non posso più coprire neanche da lui Prendiamo il super tom Torniamo qua Eh però lo sprechiamo Niente Non ce la facciamo Vabbè 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 Guarda che gioco c'è Fere Lo conosci Lo conosciamo già grazie Non ci serve Non ci serve Allora chiudi pubblicità Chiudi pubblicità E proviamo il professore pazzo di storia Che bellina la mamma Bellina l'ambientazione Bellina Vediamo cosa cambia Vediamo cosa cambia Buongiorno prof Mamma mia Mamma mia Io non ho letto cos'erano gli obiettivi Non lo so Però guarda come cresce lentamente Allora The students are leaving Tap to stop air Ah ok Lo devi cliccare Lo devi cliccare Perché altrimenti se ne va E tu hai meno persone Da cui copiare Capito Stava uscendo dalla classe Quindi lo devi cliccare Per fermarlo Mamma mia Cioè no Fa impazzire sto gioco Fa impazzire totalmente Io quando l'abbiamo installato Ho pensato Ah meno male che è più semplice Di high school One on one No è uguale Certo Facilissimo Magari questo inizia semplice Esatto Ma poi non lo è Allora uno Due Tre Così se se ne vuole andare Almeno l'abbiamo sfruttato come si deve Eh però cerchiamo di lasciare No 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 scusi Mamma mia Non farlo arrabbiare Sì adesso appena se ne vuole andare Dobbiamo stare attenti E cliccarlo Ok Prendiamo anche super potere Allora Ma quindi cosa devo fare? Cliccalo Prova a cliccarlo Eh ma l'ho già cliccato Fare Niente Non succede nulla Forse devo andare a copiare Ah devo andare a copiare Prima che se ne vada Ah ok 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 Comunque da ora in poi Se se ne vuole andare Può andarsene Perché abbiamo finito di copiare da lui Quindi non ce ne frega più nulla Puoi tornare a casa Non ci sei Esatto Vai pure Vai pure Ok no in realtà c'è di nuovo Guarda Ok Quindi lo sfruttiamo Ok Sinceramente è più semplice A questo livello Di quelli che stavamo facendo Sì perché l'abbiamo sfruttato Ah no Mancano solo tre secondi Pensavo avessi tutto il tempo del mondo Però è andata Ce l'hai fatta con la Ti dicevo Comunque abbiamo sfruttato meglio Tutti i poteri E tutte le cose che dovevamo fare Quindi sì è andato bene Bella anche la classe di storia Una figata Davvero difficile Molto carina anche questa cosa Che se ne iniziano ad andare Quindi devi per fortuna andare da lui Mamma mia Comunque dai ci fermiamo così Per questo video Speriamo che vi sia piaciuto questo gioco Secondo me si potrebbe anche riportare Quindi in base al sondaggino Likes Commenti Tutto 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 Valutiamo l'idea Perché per quanto mi riguarda Io un secondo video ce lo farei Perché è davvero Sia carino che divertente Ha costantemente nuove cose Quindi non è monotono Esatto E ha la difficoltà giusta per divertirsi Quindi ci fermiamo così Fateci sapere se lo volete vedere ancora E ci vediamo domani Bene che ci riesce così C'è tutto ciò Scieteci un like E se la prima volta che avete visto il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 Ciao